Prosperi avete tenuto testa al Campobasso, perdete 2-0, crediamo sia legittima la vittoria del Campobasso, che cosa porta, quali indicazioni trae da questo derby contro il Campobasso? Il Campobasso sul 2-0 ha avuto anche occasioni per chiuderla perché era normale, sicuramente ha fatto un'ottima gara ma credo che anche noi abbiamo fatto un'ottima gara, è normale che gli episodi non ci sono stati molto favorevoli perché noi abbiamo avuto una grandissima occasione sullo 0-0 con Salatino, loro il primo tempo non mi sembra che abbiano creato chissà che cosa, non ricordo parate di guerra, ricordo il gol, queste sono squadre che alla prima disattenzione ti puniscono perché sono squadre che hanno valori, tecnici, fisici, squadra allenata bene, da un ottimo allenatore, quindi è normale che era una partita per noi proibitiva però ho onestamente un po' di rammarico anche per non essere riuscito a riaprirla sul 2-0 perché abbiamo avuto due occasioni, credo clamorose, con Mercai e Guida però ci sta di sbagliare, ci sta anche che adesso venga un po' meno la lucidità noi siamo tantissime partite consecutive che facciamo, lavoriamo da tanti mesi ovviamente numericamente non siamo il Campobasso quindi qualche deficit lo possiamo avere In effetti sì, lei ha detto prima di questa partita non siamo in vacanza, lo saremo evidentemente dal 20 giugno quindi testa alta e lotta fino proprio al 20 giugno a cominciare da domenica quando giocherete contro il Castelnuovo Vomano Non vedo perché non dovremmo, è lo sport che te lo dice E poi ripeto, dobbiamo dare anche valore a tutto il lavoro che stiamo facendo, alle ottime prestazioni che abbiamo fatto anche quando abbiamo perso e poi abbiamo tanti giovani che hanno voglia di mettersi ancora in mostra abbiamo altre partite da fare, le faremo onorandole al meglio Qualcuno destinato anche alla categoria superiore ci giungono queste notizie come Mercai, ci è stato detto, questo è sicuramente un punto a favore del lavoro della società e del suo lavoro perché insomma fa piacere che poi vengano partorite questi giocatori destinati a categorie superiori Io mi auguro che non solo Mercai abbia la possibilità di fare il salto ci sono dei ragazzi che lo meritano, che erano dei semi sconosciuti abbiamo avuto la forza e il coraggio di puntarci e il lavoro li sta premiando perché poi il merito è loro perché loro stanno dando tanto, si stanno impegnando tanto ed è giusto che abbiano il loro ritorno Antoniozzi 0 a 2, è la partita che vi consegna la Lega Pro? La matematica, al di là delle parole di circostanza, dice ancora no però oggi era fondamentale vincere, inutile nascondersi ormai è la realtà, siamo a più otto, a quattro partite dalla fine facciamo gli scongiuri però oggi era fondamentale portare a casa la vittoria Manca solo la matematica come dice lei? Sì, diciamo che manca la matematica anche se noi facciamo l'allenamento comunque domani mattina, venerdì forse concediamo qualche giorno di riposo ma poi pensiamo alla partita di Porto Sant'Elpito come fosse una finalissima e speriamo di riaprire poi lo stadio a questi tifosi che comunque meritano assolutamente questo campionato che da anni ormai è troppo lontano dalla città grazie 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 a tutti